Che è la mia festa della polizia, ma essere in questo teatro meraviglioso, contornato da tanta gente, da tanti ragazzi, a parte le istituzioni, è proprio la città che si è vista partecipare a questa manifestazione sicuramente motivo di grande orgoglio perché testimonia la partecipazione della città alla vita della polizia. La polizia è qua per servire i cittadini, per essere al fianco dei cittadini, per garantire sicurezza in una città così difficile e vederli qua in tanti, dai bambini fino alle massime autorità, è una cosa che ci dà grande spinta emozionale, ci dà grande conforto di sentirci la città intorno per fare il nostro dovere al servizio di questa città. Molto parte dall'ispirazione del capo della polizia, a cui dobbiamo sempre dire grazie per la sua vicinanza al territorio, per la sua vicinanza alle questure e in particolare alla questura di Reggio Calabria. È un motto importantissimo, esserci sempre vuol dire non limitarsi a fare il proprio lavoro in maniera semplice, in maniera tranquilla e in maniera ordinaria, ma metterci quel qualcosa in più, metterci quel cuore, una passione, una determinazione che fa sì di poter raggiungere quei risultati che altrimenti non sono raggiunti. Sicuramente, ma non è un'alternativa, non è una cosa diversa. Quei poliziotti che sono stati premiati oggi sono frutto di questa terra, sono figli di questa terra, di queste tradizioni, di questa cultura. Se oggi li premiamo perché sono stati straordinari nel loro lavoro è perché questa terra ha prodotto questi poliziotti. Questa terra non produce soltanto grandi etisti, non produce soltanto gente di malaffare, ma produce anche parte sana della società, parte migliore della società che a sua volta deve contribuire a migliorare le condizioni di vita di tutti quanti i cittadini di questa terra. Guardi, se vogliamo metterla anche su questo piano, quando mia moglie ha letto il mio discorso ha detto benissimo, stupendo, ma l'anno prossimo a questo punto cosa dirai? E io mi ho risposto semplicemente, queste sono le premesse, questi sono gli intendimenti. L'anno prossimo spero di parlare dei risultati. Grazie, grazie.